Dai creatori di Alla ricerca di Nemo, Wall-E, Up e il grande successo dell'estate, Toy Story 3, è in arrivo una nuova avventura di proporzioni internazionali. L'estate prossima non solo correranno in tutto il mondo, ma correranno per salvare il mondo. Finn, make me side, Intelligence Britannica. Garla Attrezzi, Intelligence, beh, insomma. Senti, questa non era di Hector Springs. Questi americani sono spie magistrali. Oh, vorrei scherzare. Vai, McQueen! 10-4! In avvicinamento. Eccolo lì! Sta scappando! Rengiti! Cars 2 Cricchetto? Abbiamo fatto il passo più lungo della gomma. Cricchetto? Abbiamo fatto il passo più lungo della gomma. 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 Abbiamo fatto il passo più lungo della gomma.